E' un lavoro che facciamo tra i linguaggi, c'è del jazz, c'è della musica classica, c'è la tradizione acustica, folk, quindi si chiama Camera Ensemble perché mette insieme le diverse anime della musica. Giovanni Palumbo con il suo Camera Ensemble, protagonisti dell'ultimo appuntamento di Jazz on the Corner. Il quartetto Camera Ensemble, come suggerisce il nome, presenta una formazione cameristica ed acustica. Gabriele Coen al sax al clarinetto, Benny Pennazzi al violoncello, Giovanni Palumbo alla chitarra e Francesco Savoretti alle percussioni creano un suono unico che combina elementi di jazz italiano con melodie erradicate. Nelle proprie tradizioni. E' un appuntamento fisso da tanti anni e cerchiamo di fare una proposta ogni volta sempre nuova, diversa, variegata e questa è la nostra seconda sera, siamo contenti della risposta del pubblico. Questa musica si può definire jazz mediterraneo o etno jazz più genericamente. Siamo vicini alla World Music, una musica di contaminazione fra musica popolare e jazz, quindi tessitura e jazz, improvvisazione, ma anche molta melodia. Una melodia molto spiccata, molto evidente, che in qualche modo c'è anche una rivendicazione, diciamo così, tra virgolette, della cantabilità italiana nei temi melodici. Però appunto poi la base armonica è di tipo jazz.